Non perdere la speranza di ottenere documento, usa la testa e manda in Ilde la richiesta, anche se durante il confinamento il DB è stato più lento, il network rischia un portento. Auguri a tutta la comunità in Ilde per feste in serenità ed un 2021 ricco di salute e amenità.